Ciao carissime amiche, io sono Anna, e in questo video ti svelerò una breve anticipazione sulla sop turca The Family, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perdere il prossimo video e attivare la campanella per non perdere nessun aggiornamento. Nei prossimi episodi della serie, The Family, assisteremo a un evento drammatico che toccherà il cuore dei fan, la morte di Cian, uno dei personaggi più amati. Questo sacrificio avviene in un contesto di tensione e vendetta, dove Cian mette a rischio la propria vita per salvare quella di suo fratello Aslan. Per comprendere come si sia giunti a questo tragico epilogo, facciamo un passo indietro negli eventi che hanno portato a questa decisione estrema. Aslan, in un confronto finale, riesce a eliminare il suo peggior nemico Ilias. Tuttavia, questa vittoria non resta senza conseguenze, poiché Ferman, deciso a vendicare la morte del suo alleato, trama vendetta contro la famiglia Soikan. La sua alleanza con Babur mette in serio pericolo la sicurezza della famiglia di Aslan. Nel frattempo, Uliya, mossa dalla preoccupazione per i propri cari, si impegna a fermare Ferman e riesce finalmente a catturarlo con l'aiuto dei suoi uomini. In una conversazione intima, Cian rivela ad Aslan un segreto che potrebbe cambiare le sorti della loro lotta. Confessa di aver risparmiato Ferman dopo la morte di Ilias, per pietà. Questa decisione si rivelerà cruciale, poiché Ferman, che aveva giurato di sparire per non essere scoperto da Aslan, si è rifugiato a casa della madre di Ilias e sta tramando un nuovo piano per uccidere Aslan. Con l'ausilio di Devin, Uliya e Nedret, Uliya riesce a catturare Ferman e a eliminare Babur, mettendo fine alla minaccia che pesava sulla loro famiglia. Tuttavia, Ferman, in un colpo di scena, riesce a fuggire dall'ospedale dove era stato ricoverato a causa delle gravi ustioni riportate durante la sua fugace cattura. In un ultimo disperato tentativo di completare la sua vendetta, Kiemet ordina a Ferman di uccidere Aslan. L'uomo, astuto e implacabile, si dirige al porto, dove si sta celebrando il matrimonio di Bedri e Yargam, sfruttando la confusione dell'evento per portare a termine il suo piano oscuro. Quando il ricevimento volge al termine, sia Cian che Aslan escono, ignari del pericolo imminente. Ferman, riuscendo a rubare una pistola da una guardia giurata, punta l'arma contro Aslan. In un gesto eroico, Cian si fa scudo per salvare suo fratello, ma in un tragico rovescio di fortuna, perde la vita tra le braccia dei suoi cari. Questa scena straziante segna un punto di non ritorno per Aslan, il quale si trova distrutto e incapace di affrontare il peso della perdita di suo fratello. La serie continua a tenere il pubblico con il fiato sospeso, esplorando i temi del sacrificio, della vendetta e dell'amore fraterno, confermando, The Family, come una delle narrazioni più avvincenti del panorama attuale.